Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi è il giorno, il grande giorno, è il 22 di febbraio e si gioca Villarreal-Juventus. Finalmente la Juve torna all'interno di una sfida a eliminazione diretta in UEFA Champions League. Sono carico, sono carico e ansioso e non vedevo l'ora di potervi portare questo video perché la raccolta dati che ho effettuato, che è stata lunghissima e faticosissima, beh risale a qualche mese fa e ho aspettato questo giorno veramente contando sul calendario perché aveva senso portarvelo in una giornata riversa da questa? Assolutamente no. E oggi parliamo della Juventus in Champions, gare a eliminazione diretta da Conte in poi, quindi la stagione numero 2 targata Antonio Conte, le 5 di Allegri, quella di Sarri, quella di Pirlo e ci proiettiamo per quella nuova di Allegri, l'Allegribis. Gol e assist totali, chi ha convinto più degli altri? In attesa del Villarreal cerchiamo di capire i giocatori che sono stati più decisivi nella storia recente della Champions proprio per la Juventus e ci saranno alcuni complimenti nei confronti di alcuni giocatori del presente e del passato e alcune critiche da muovere magari ad alcuni giocatori presenti in rosa al momento. Perché c'è Alvaro Morata? Beh questo è il gol ragazzi che mi ha fatto esultare più di tutti da casa perché in assoluto il gol che mi ha fatto esultare più di tutti in Champions è quello proprio di Morata contro il Barcellona a Berlino in finale però anche questo veramente è storia il colpo di testa di Alvaro Morata che ci manda in finale di Champions. Se siete tutti pronti iniziamo. Giocatori con meno di 6 partite giocate ricordatevi che parliamo di eliminazione diretta in Champions League non c'entra niente i gironi è soltanto gare a eliminazione diretta. Vucinic ha giocato tre partite al pari di Quagliarella, due piazza, quattro cancello, due chiesa e quattro ora più. Che cosa ho fatto? Ho preso il numero di gol, il numero degli assist, li ho sommati e poi ho fatto il rapporto. Gol più assist su partite. Cosa possiamo vedere? Ovviamente ricordiamoci che parliamo di micronumeri perché facciamo due conti. Ottavi di finale andate e ritorno, due partite. Quarti di finale andate e ritorno, altre due partite. Semifinale andate e ritorno, altre due partite sono sei più una sette che la finale. Se arrivi in finale fai sette partite. Noi ci siamo arrivati due volte, quindi 14, poi siamo usciti tra quarti, semifinale e ottavi e quindi non sono grandissimi i numeri. Ragioniamo su numeri abbastanza piccoli. Cancelo, Piazza e Rabiot sono giocatori che hanno giocato il rapporto che è 0-5. Hanno fatto 0-5 sul rapporto delle partite giocate, il che significa che non sono andati male per quella che è stata l'esperienza in Champions con la Juve. Salta l'occhio chiesa che in due partite giocate ha fatto tre gol. Andate e ritorno l'anno scorso col Porto e questo probabilmente è il più grande assente che abbiamo in assoluto perché l'impatto di Federico Chiesa con la Champions League, con la Juventus e soprattutto con la fase di eliminazione diretta della Champions League è stata assurda ed è stato il nostro Cristiano Ronaldo che era venuto un po' a mancare l'anno scorso. Andiamo avanti, vediamo gli esterni, i giocatori che giocavano sull'esterno con più di sei partite giocate e cioè Evra, Quadrado, Alexandro, Daniel Alves, Listeiner e Bernardeschi. Sono tutti numeri abbastanza bassi, come potete vedere Evra ha soltanto un assist, Quadrado un gol e due assist però in 13 partite giocate. Lo stesso Alexandro in 19 ne ha fatto soltanto uno parlando di assist. Listeiner in 14 partite giocate un assist. Sono poi tutti decisivi sia i gol che gli assist perché stiamo parlando della fase eliminazione diretta della Champions League dove il pallone è veramente pesantissimo quindi non sottovalutiamo il peso né di un gol né di un assist. Però capite bene che uno invece come Daniel Alves che in sette partite ti fa due gol e due assist e ti porta quota 0,57 il rapporto tra dipendenza da gol del giocatore stesso e le partite che ha giocato e tanta tanta roba. Bernardeschi in otto partite ha fatto due assist, poi magari si è procurato anche un calcio di rigore, ha fatto delle belle prestazioni. Io qui voglio analizzare soltanto quanto pesa effettivamente il gol o l'ultimo passaggio prima del gol perché dopo vedremo anche degli altri esempi un po' più concreti. Ci sono dei giocatori che non puoi valutare solo per quello perché magari fanno un ruolo che non richiede esattamente quello tipo Evra, Edith Steiner. Non sono giocatori che dici diavolo mi devono fare 5-6 gol a stagione in Champions League perché se no non sono contento. Invece Daniel Alves è uno di quei giocatori che ha la pasta per essere decisivo in queste competizioni, infatti uno di quelli con più trofei in assoluto nella storia del calcio e non per caso, assolutamente non per caso. Poi ci sono i centrocampisti con più di 6 partite giocate. Attenzione perché qua iniziamo a entrare nel vivo della storia perché abbiamo sempre detto la Juventus con il centrocampo fatto bene è sempre andata bene. Marchisio 16 partite, un gol e un assist. soltanto due volte un gol, ok? Marchisio ha creato due gol per la Juve con un gol, ultimo passaggio. Pereira 7 partite, un assist. Vidal 10 partite, un gol e un assist. Sturaro 6 partite, un gol col Bayern Monaco. Pogba 10 partite, un gol e due assist. Pjanic 15 partite, tre assist. Che dire? a 13 partite, due assist. Ma tu di 7 partite, un gol a Madrid contro l'Atletico. Anzi no, quella era di Giroudini, scusate, con Real. Nella sconfitta purtroppo, vabbè, lasciamola stare con la sconfitta, con la vittoria in realtà con Real, lasciamola stare perché è ancora qua. Fatto sta che come possiamo vedere non sono numeri così grandi. Quindi in Champions storicamente fino a questo punto non sono stati né i difensori, Dani Alves a parte, né i centrocampisti, se vogliamo metterci Pogba a quello 0-3 di rapporto che non è male ma nemmeno perfetto. Quindi cerchiamo di andare un po' più avanti, no? Perché si dice tante volte che sono gli attaccanti a fare riferenza in Champions. Vediamo se questa cosa è stata vera oppure no, e ribadisco sempre nella fase di messa in diretta della Champions. Attaccanti con più di sei partite giocate. Matri, Tevez, Morata, Dybala, Higuain, Mandzukic e Ronaldo. Ok, ci siamo? Perfetto. Matri, due gol e un assist. Beh, mica male per le sei partite giocate. Tevez, quattro gol e un assist in sette partite, che bene o male è soltanto la Champions di Allegri perché con Conte uscimmo ai gironi purtroppo senza passare alla fase finale della Champions League. Morata, undici partite, cinque gol e due assist. Tanta tanta roba è Tevez e Morata. L'attacco titolare di quella finale di Champions a Berlino non per niente. Dybala, sedici partite, cinque gol, zero assist. Questa cosa veramente mi ha stupito perché non mi ricordavo che Dybala non avesse mai fatto assist in queste partite. Sono andato a rivedermi, ragazzi, partita per partita tutti i gol, quindi sono sicuro di quello che vi sto dicendo. Magari mi è sfuggito qualcosa, non lo so, però sono abbastanza sicuro di quello che vi sto dicendo. Higuain, tredici partite, cinque gol e due assist. Mandzukic, quindici partite, due gol e due assist. Ronaldo, otto partite, sette gol e un assist. Ok, Dybala e Mandzukic sono quelli con la percentuale minore, no? Nel senso che in base alle partite che hanno giocato e in base al contributo gol sono quelli che hanno un po' meno. Poi è ovvio, Mandzukic ha segnato in una finale di Champions e per larghi tratti ha fatto il quarto a centrocampo all'interno di sette partite che sono quelle che ci hanno portato poi appunto a Cardiff. Dybala purtroppo, secondo me, paga il fatto di aver servito pochi assist, cioè zero, e aver magari cannato alcune partite eliminazione diretta. Poi vabbè, Matri ovviamente, ragazzi, questo numero preso semplicemente col rapporto vi dice che Matri è meglio di Dybala e sappiamo tutti che non è così. Però Tevez ha avuto un impatto incredibile, Cristiano Ronaldo uno, cioè uno è tantissimo, ragazzi, uno è tantissimo in otto partite, veramente tanto. E invece Alvaro Morata, che è tanto bistrattato, no? In realtà nella fase eliminazione diretta della Champions League con la Juventus è uno dei giocatori in assoluto migliori della nostra storia recente e questo ci potrebbe dare una spinta in più, un segnale in più per affrontare la partita. Qua vi metto la tabella completa con tutti i giocatori che hanno contribuito con almeno un gol o un assist all'interno. del nostro percorso in Champions di questi anni. Ho evidenziato in azzurro i giocatori che sono presenti tuttora nella rosa della Juventus, che non sono esattamente quelli che scenderanno in campo domani col Villareal, ma Morata sì, Dybala purtroppo è infortunato, Quadrado ci sarà, Alexandro ci sarà, Chiellini purtroppo è infortunato, Bernardeschi è infortunato pure lui, Chiesa purtroppo è infortunato pure lui e Rabiot dovrebbe esserci nonostante la botta rimediata in allenamento da Stramaccioni. Che cosa salta all'occhio? Che allora nel rapporto ho cercato di mettere in grassetto i giocatori che hanno superiore allo 0,50 quindi dal 0,51 in su sono stati evidenziati e i giocatori che hanno più impattato, proprio per evitare il discorso come Piazza, Matri che hanno fatto poche partite e magari hanno segnato, fatto gol così, sono Tevez, Morata, Dani Alves, Higuain, Ronaldo e Chiesa. Chiesa ha numeri molto bassi perché soltanto due partite, ma tre gol in due partite significa veramente tanto, infatti la foto con Ronaldo e Morata perché intanto insieme l'hanno vinta Madrid la Champions, proprio ai nostri danni e poi è la coppia probabilmente che più è stata idonea per provare a vincere la Champions l'anno scorso con Andrea Pirlo per quanto riguarda la loro storia juventina in Champions League. Ovvio che se fosse stato Tevez, Cristiano Ronaldo, io sono guardato e ve lo dico tranquillamente, se avessimo avuto un anno Tevez, Cristiano Ronaldo sono sicuro che avremmo vinto almeno una coppa di campioni, almeno una, non so dirvi quale ma sono abbastanza convinto di quello che vi sto dicendo, invece purtroppo sappiamo tutti com'è andato a finire. Allora, cerchiamo di fare un focus particolare su alcuni giocatori, parto da Paolo Di Bala, lo sapete bene, io ho, credo, tutte le maglie di Di Bala tranne di due stagioni in cui ho comprato quella di Cristiano Ronaldo, avrei rinnovato Di Bala ieri, non oggi, non domani, ieri e sono assolutamente convinto che Paolo Di Bala sia un valore aggiunto assoluto all'interno della Juventus. Se c'è una critica che gli devo fare, che è diverso dagli infortuni, no? È diverso dagli infortuni che lì possano capitare come no, una critica che secondo me posso rivolgere a cuor leggero e sapendo che a Di Bala voglio molto bene e lo voglio anche nella Juve del domani, è proprio questa. Un giocatore come Paolo Di Bala, secondo me, deve iniziare a farmi molto più la differenza nella fase finale della Champions League e il fatto che domani non ci sarà va ad allungare una storia che è la seguente. Paolo Di Bala, 5 gol in 16 partite, 0 assist, i gol sono stati con Bayern-Monaco, Porto, Barcellona, Barcellona-Tottenham, il che significa che la prima esperienza subito in gol col Bayern. Alla seconda esperienza, quella di Cardiff, Porto-Barça-Barça, che è stato fino adesso il miglior momento di Di Bala per la fase di eliminazione diretta della Champions League con la Juventus e personale, ovviamente, e col Tottenham l'anno dopo. Significa che da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, Paolo Di Bala nella fase di eliminazione diretta della Champions, non ha dato niente sotto il punto di vista di gol e di assist. Ed è questo che vi dico, Paolo Di Bala qui deve migliorare tanto. Purtroppo Di Bala è stato assente nel ritorno col Bayern-Monaco nel 2016, nell'andata col Tottenham nel 2018, nel ritorno col Real nel 2018. Per squalifica, si è fatto espellere in casa nella brutta prestazione della Juventus questa è una sconfitta con Real Madrid. Nel secondo tempo con l'Ajax, gioca al primo tempo, poi si fa male e scende, entra Moise Ken. Nel ritorno con Lione nel 2020, fa 15 minuti, poi esce per infortunio, proprio nella foto che vedete con Di Bala che piange e Sarri che è un po' preoccupato, l'ultima partita di Sarri con la Juventus e con Di Bala che probabilmente da quell'infortunista lo porterà poi dietro per tutta la stagione successiva e infatti l'anno scorso salta sia l'andata sia il ritorno col Porto 2021 e purtroppo anche quest'anno salta l'andata col Villarreal 2022. Quindi capite che nel momento clou della stagione quando c'è stato Paolo Di Bala, la differenza l'ha fatta, poteva farla ancora di più e poi ci sono stati dei momenti in cui magari con il Real Madrid si è fatto espellere, con il Lione, con l'Ajax si fa male dopo un tempo, con il Lione entra e non è al 100% e si fa male ancora e quindi questi numeri vanno a peggiorare le sue statistiche di essere decisivo in questa parte qui e allo stesso tempo notiamo che da 2019, 2020, 2021, 2022, quattro anni a questa parte, quindi tre di Ronaldo più questo, almeno una volta nella fase eliminazione diretta della Juventus Paolo Di Bala è venuto a mancare. Quindi il mio augurio è il seguente, che Paolo possa non avere niente, domani sera che si possa vincere, fare una bella prestazione anche senza di lui e dal ritorno in poi voglio iniziare a vedere un Paolo Di Bala leader in queste gare qui, perché secondo me in campionato, ma anche nei gironi della Champions, non c'è veramente quasi niente da recriminare all'avventura di Paolo Di Bala, la Juventus, uno dei migliori top scorer, l'undicesimo, top scorer, decimo, undicesimo top scorer nella storia della Juve, lo voglio vedere qua, fa la differenza, perché qua secondo me è il battesimo di fuoco che ti fa capire quanto un calciatore è davvero super all'interno del panorama calcistico mondiale. E poi qua c'è un parallelismo tra Chiellini e Morata, perché Chiellini, cavolo, è un altro di quelli che salta sempre questi appuntamenti e anche questa volta non ci sarà, non c'era Berlino, porca vacca, che avere avuto Chiellini e Berlino sarebbe stato importantissimo e è ovvio che in questo momento Giorgio è un giocatore che ha una certa età e quindi certi ritmi non te li può reggere e non è il giocatore che vado a chiamare come punto di riferimento per questi appuntamenti, lo sappiamo tutti cos'è Chiellini oggi è la riserva di Bonucci e di Delit che sono i due titolari, il problema è che quest'anno anche Bonucci sta iniziando ad avere qualche fastidio e sarà necessario ragazzi, cioè non prendiamoci in giro, sarà necessario intervenire in difesa per dare un cambio generazionale perché purtroppo le ultime due stagioni ci hanno fatto capire che il solo Delit non può essere sufficiente per questa Juve che aveva basato tanti anni e tanti successi proprio su Chiellini e Bonucci come ha fatto l'Italia quest'estate, però il tempo passa per tutti e invece Morata è uno dei migliori della nostra storia recente e domani sera mi aggrappo ad Alvaro Morata perché in queste serate qua Alvaro fa la differenza, secondo me e l'ho sempre detto Alvaro Morata non è il giocatore da continuità, da campionato ma da queste partite sì e domani sera mi aspetto una grande prestazione da Alvaro Morata. E perché vi metto questa foto? Per concludere, per quello che vi dicevo prima, da una parte Federico Chiesa che con noi ha avuto un impatto incredibile anche quest'anno 1-0 nei confronti del Chelsea passa da un suo gol e dall'assist di Bernardeschi, quindi Federico Chiesa in Champions è una furia e l'abbiamo visto anche l'Europeo, più aumenta la difficoltà della partita e più Federico Chiesa si esalta ed è una caratteristica secondo me che hanno soltanto i migliori, quelli che hanno una certa pasta diversa dagli altri, aggiungo anche De Ligt perché secondo me De Ligt è di questa pasta qui e sarei veramente contento di aggiungere De Ligt alla lista magari con un gol già domani sera con Villareal, il secondo consecutivo dopo quello col Toro e dopo prestazioni veramente di altissimo livello da parte di Matthijs De Ligt. E dall'altra parte a Vlaovic che come vi dicevo prima ad Alvaro Morata mi appoggio, mi aggrappo sì, però Vlaovic ha detto lo stesso, Morata in conferenza ha tutto il futuro davanti, è un giocatore che deve prepararsi a giocare queste partite con continuità perché il futuro è tutto suo e io lo considero della stessa pasta di Federico Chiesa domani all'esordio in Champions League e non è un esordio come gli altri perché quanto è fare l'esordio nei gironi con la maglia della Juve che già ha un peso incredibile, è qualcosa di estudo, ma far l'esordio in Champions League in una sfida a eliminazione diretta è una sorta di battesimo del fuoco e io sono consapevole del fatto che Vlaovic ha la potenzialità di decidere già in positivo questa sfida delicatissima dove la Juventus viene da tre anni in cui purtroppo si è andati male, male, molto male. E quindi fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti, fatemi sapere se secondo voi Vlaovic o De Ligt possono essere aggiunti alla lista che abbiamo visto, se Alvaro Morata può incrementare il suo score, se Chiellini potrà avere una chance ancora di essere decisivo nelle fasi di eliminazione diretta della Champions e se Paolo Di Bala già da questa stagione, che potrebbe addirittura paradossalmente essere la sua ultima stagione con la maglia della Juventus, potrà essere ancora decisivo come una volta in questa delicatissima fase. Ricordatevi sempre che la Champions è il top assoluto per il calcio europeo e i gironi sono una cosa, adesso la palla inizia a diventare veramente pesante. Voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti.